In diverse occasioni le abbiamo definiti viaggi della speranza da Gela a Palermo per chiedere un porto fruibile, incontri, tavole rotonde, riunioni tecniche, si parlava tanto ma si concludeva poco e tutto rimaneva come era con un porto insabbiato e con le barche che ne piangevano le dirette conseguenze. Ieri martedì 27 settembre è finalmente arrivata la sospirata firma con la quale si individuano interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale che saranno realizzati dalla protezione civile indicata dalla regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5 milioni 880 mila euro. L'accordo attuativo è stato siglato dalla regione Sicilia, dal comune di Gela, dal dipartimento regionale della protezione civile e da Eni. Il progetto esecutivo predisposto dal dipartimento regionale della protezione civile prevede come principale attività il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205 mila metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto rifugio con piantumazione di essenze arbore e un intervento di protezione dell'aria attraverso l'ampiamento e il rafforzamento del pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito. Oltre al potenziamento del porto rifugio, l'accordo prevede anche la realizzazione di uno studio sul sistema portuale gelese. L'analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l'attuale stato delle infrastrutture e i possibili interventi di riqualificazione e potenziamento volte a garantire il ruolo strategico del porto industriale di Gela all'interno del nuovo piano regionale dei trasporti. L'intesa si grata ieri si inserisce nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014 per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela. Sentiamo il sindaco Domenico Messinese. Ci sono sempre qualcuno come il PD che come al solito cerca di prendersi meriti che di fatto non dovuti in modo particolare, diciamo ne ha tanto quanto tutti gli altri. Anche perché mi ricordo che noi appena insediati ci siamo posti a un protocollo firmati dal PD dove consentiva con un investimento di 170 mila euro di fare un'escavazione più che altro palliativa che serviva forse per il momento. E invece adesso abbiamo portato avanti un progetto che da 170 mila euro è passato a 5 milioni e 8, dove ci sono interventi strutturali e dove si ha un'escavazione che può rendere nuovamente il porto come era 20 anni fa.